Scuola WWE più forte che mai! L'incontro è appena iniziato! Battista non teme nessuno! Grafica personalizzata! Cintura dorata! Questo è un osaino per veri campioni! La forza dei prester è anche nel triplo astuzzo e nel diario zappo di immagini! Scuola WWE, energia inarrestabile! E il campione sei tu! La scuola di Spider-Man 3 Più agile, più versatile, più potente! Con la scuola di Spider-Man sei tre volte più forte! Giocchi preziosi!